Sì, oggi veramente il momento in cui scendiamo su 445 contagi dimostriamo che vi è una possibilità di indicazioni di dati che legittima anche una possibilità di movimento che è quella che io auspico con la zona gialla. Naturalmente io voglio dirvi che vi deve essere del massimo rispetto nelle decisioni, nelle valutazioni, nel modo di riunirsi della cabina di regia tecnica nazionale e noi sotto questo aspetto ci poniamo con interlocuzione e con rispetto. Dati positivi dunque ma continua la battaglia della Toscana contro il Covid inaugurato oggi a Sesto Fiorentino il parco Covid più grande d'Europa e il drive-thru è allestito su quasi 5000 metri di superficie. Arrivando in auto al parco sarà possibile effettuare diverse tipologie di tampone a pagamento, quello rapido avrà un costo di 35 euro mentre quello naso o faringeo costerà 80 euro. I tamponi saranno effettuati da lunedì al venerdì in tutte le giornate con e senza appuntamento. Saranno presenti anche i volontari della Croce Rossa che daranno informazioni. Abbiamo, vedete alle mie spalle, ci sono due gazebi, abbiamo il gazebo verde che è per fare i tamponi privati e quindi qui le persone possono venire con appuntamento, senza appuntamento, con il metodo del drive-thru e fare i tamponi, sia quelli naso faringei che i tamponi rapidi, privatamente. Per la parte pubblica invece abbiamo il gazebo rosso dove vengono indirizzati invece tutti i tamponi che vengono prenotati tramite il sistema dell'ASLA e dell'assessorato regionale di sanità.